Capitolo sesto Pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati. Per l'appunto era una notta taccia d'inferno, tornava forte, forte, lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco e un ventaccio freddo e strapazzone, fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere, faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna. Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi, se no che la fame era più forte della paura, motivo per cui accostò l'uscio di casa e presa la carriera in un centinaio di salti arrivò fino al paese, con la lingua fuori e col fiato grosso come un cane da caccia. Ma trovò tutto buio e tutto deserto. Le botteghe erano chiuse, le porte di casa chiuse, le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane. Pareva il paese dei morti. Allora Pinocchio, preso dalla disperazione e dalla fame, si attaccò al campanello di una casa e cominciò a suonare a distesa, dicendo dentro di sé, qualcuno si affacerà. Difatti si affaccia un vecchino, col berretto da notte in capo, il quale gridò tutto stizzito. Che cosa volete a quest'ora? Che mi fareste il piacere di darmi un po' di pane? Aspettami, Costi, che torno subito, rispose il vecchino, credendo di aver da fare con qualcuno di quei ragazzacci e rompicolli che si divertivano di notte a suonare i campanelli delle case, per molestare la gente per bene, che se la dorme tranquillamente. Dopo mezzo minuto la finestra si riapì e la voce del solito vecchino gridò a Pinocchio, fatti sotto e pare il cappello. Pinocchio si levò subito il suo cappelluccio, ma mentre faceva l'atto di pararlo, sentì pioversi addosso un enorme catenella d'acqua che lo annaffiò tutto dalla testa ai piedi, come se fosse un vaso di giriano appassito. Tornò a casa bagnato come un pulcino e rifinito dalla stanchezza e dalla fame, e perché non aveva più forza da reggessi il ritto, si pose a sedere, appoggiando i piedi fradici e impillaccherati sopra un caldano pieno di braccia accesa. E lì si addormentò. E nel dormire i piedi, che erano di legno, gli presero fuoco, e ad agio ad agio gli si carbonizzarono e diventarono cenere. E Pinocchio seguitava a dormire e a russare, come se i suoi piedi fossero quelli in un altro. Finalmente, sul far del giorno, si svegliò, perché qualcuno aveva bussato alla porta. «Chi è?» Domandò sfadigliando e stropicciandosi gli occhi. «Sono io!» Rispose una voce. Quella voce era la voce di Geppetto.